Anche Martina Caironi a You Young Europe, Martina qui oggi sono in mostra, i talenti dei giovani, le potenzialità, si fanno proposte per i giovani talenti europei, qual è il tuo talento? Il mio talento, a parte appunto quello sportivo, è forse quello di sapere imparare le lingue e parlare con tante persone di diverse nazionalità e questo mi piace molto e mi serve anche nei miei viaggi e siamo qui, sono qui oggi per raccontare la mia esperienza sia a Rio sia anche forse come appunto viaggiatrice e ho fatto anche io il programma Erasmus anni fa. Che ti ha lasciato questa esperienza di studio? Sì, mi ha lasciato tantissimo, mi ha permesso di imparare a fondo una lingua e scoprire bene appunto che cosa significhi stare lontano da casa in una cultura diversa sebbene quella spagnola dove sono stata io era molto simile, però ti aiuta ad aprire proprio gli orizzonti, a aprire gli occhi, a vedere la realtà in modo più completo forse. Secondo te si fa abbastanza qui per valorizzare i giovani talenti? Certo ci sono delle opportunità ma si potrebbe fare di più perché in effetti Roma e anche l'Italia è un paese con tantissime potenzialità e tantissimi giovani anche che sono forse a casa a fare poco, però stiamo qui perché ci crediamo. Giornate come questa servono a dare nuove iniezioni di energia? Sì, crediamo nei giovani, crediamo nelle capacità che abbiamo e anche soprattutto nella voglia di dimostrarle di fare qualcosa di buono. Grazie Martina. Grazie.